Ricerca della qualità in vigna Oltre alla cura delle viti, all'utilizzo dei fertilizzanti non aggressivi, alla potatura e all'esposizione, per migliorare la qualità di un vino partendo proprio dalla vigna, ad un certo punto della maturazione alcuni grappoli vengono tagliati per convogliare solo ai pochi grappoli rimasti tutte le risorse che la pianta avrebbe destinato anche agli altri, incrementando così gli zuccheri, i gliceridi, i polifinoli, gli antociani o leuco-antociani e tutti gli altri elementi organolettici. Questa pratica aumenta la qualità ma diminuirà notevolmente la resa per ettaro della vigna. Per questo il vino di qualità, partendo già dalla lavorazione in vigna, avrà un costo maggiorato ma ha caratteristiche decisamente più apprezzabili.